E' bello a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo episodio di Crysis 2 Eravamo arrivati che abbiamo di nuovo ridistrutto un'intera ondata di alieni Che ci volevano distruggere e difendere la zona aerea se non ricordo male Siamo usciti a sopravvivere, a scappare per un pelo E adesso eravamo arrivati qui, sopra questo aereo Insieme ai nostri amici militari Vediamo cosa succederà in questo nuovo episodio, io vi auguro una buona visione e un buon divertimento Sei pronto? Lancio a breve! Scenderò quanto più posso ma questa è una carretta quindi muovi Oh figlio disgustata! Dieci secondi! Andiamo! Buona fortuna, Marine! Sta' attento, milioni! Appretto la tua gioia nel vedermi, Alcatraz! Ma dovrai procedere con cautela! Lockhart ha seminato per l'isola le sue forze scelte Io ti guiderò come meglio posso Ma la mia visuale da qui è, diciamo, fortemente limitata Alza e via, Svelte Island Dirigiti a nord, verso il prisma Occultamento attivo Occultamento attivo Occultamento attivo Occultamento attivo Occultamento attivo Si signore Verarti arrivare Non appena soffrendo Alcuni nemici Non so Orrghi! Saffron 5 Qui Oversight 1 Fate rapporto! Saffron 5 Fate rapporto! Saffron 5 Sono qui, Oversight 1. Abbiamo perso il contatto con Safron 5. Rafforgetevi subito. Oversight 1, qui Safron 8. Abbiamo ricevuto. Ci avviciniamo per la rivoluzione 9-1. Beh, è durato davvero poco, lo trovi? Forse dovresti essere un po' più caldo. Curazza massima! Curazza massima! Curazza massima! Curazza massima! Nanovisione abilitata! Curazza massima! 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 Confermato Safron 7, inviamo rinforzi. Occultamento attivo. Safron 10, supporto immediato a Safron 7. Ricevuto oversight. Safron 10. Ah! 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 Merda! Ah! 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 Dio, la pulventario, è corazzato! Con salto minimo, la riuscita! Corazzo del signor! Ah! Ah! Pazzo! Ti hanno colpito! Ah! Uh! Cosa? Pazzamita! Cosa? 不到! up lite! Ah! A senza iasi! Cattino, ci sono una guerra! Non lo so, non lo so! Stagio prima, non lo so! Stagioniamo di fuori! Reception, Poverse! Eliminate o immediatamente le serenete di solo il calibro! Ci sparano! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se dovesse attivarsi, friggerebbe tutti i sistemi della nanotuta e probabilmente anche le tue sinapsi. Non puoi aggirarla, ma puoi ingannarla. Non lontano dalla tua posizione, vicino all'arrivo orientale. C'è una stazione di alimentazione del Prisma. Aggiungi la stazione elettrica secondaria. Attenzione a tutte le unità. Aggiungi la stazione di alimentazione del Prisma. 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 caricarlo. Se riuscirai ad attivare il blocco d'emergenza, il suo comando verrà aggirato e una volta riattivati i sistemi non saranno possibili altri blackout. Lui non lo saprà perché non apparirà sullo schermo, ma quando cercherà di attivare la scarica, fidati, farà la scelicca. Devia l'energia per disabilitare la trappola elettromagnetica. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. O. Oh! Mi ricevi! Occultamente a giro! Eccellente! Ora vattene via da lì il più rapidamente possibile. Se l'avranno rilevato l'interruzione e verranno a indagare. Mantieni lì il caffè! Ma non è lì! Mi scegliamo! Mi scegliamo! Mi scegliamo! Mi scegliamo! Mi scegliamo! Mi scegliamo! Ma non è lì! Mi scegliamo! a 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 che hai fatto? stanno inviando rinforzi alla stazione secondaria! procedi con cautela Alcatraz! siamo giunti fin qui! non deludermi proprio ora! a 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 la cosa si sta facendo interessante siamo signori è nostro procedete esplosione confermata alza la porta interna porta interna ci siamo a a alcatraz sulla sua sinistra c'è una grata di scolo sfondale segui le condutture fino al fiume sblocco la porta di manutenzione e ti invio le coordinate di lockhart fai presto muoversi a 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 non abbiamo molto tempo attenzione blocco elettromagnetico mal funzionamento dei sistemi passaggio alla modalità base priorità al supporto vitale attenzione blocco elettromagnetico Sistemi danneggiati passaggio alla modalità base priorità al supporto vitale attenzione protocolli strato profondo attivi preindirizzamento dei sistemi sveglia marini non è il momento di morire riporta il culo nella mischia man no no ebbene ragazzi siamo finiti anche di questo nuovo episodio di нашей 2 se il video vi piacerebbe lasciate un commento mi piace anche la mia pagina facebook trovi trovate la descrizione qui in basso insieme al link di G2A e su un nuovo social network G2A dove troverete tante offerte sia per console che per PC detto questo ragazzi noi ci riportiamo al prossimo video un saluto da Frank Civi